buonasera a tutti quanti questa sera fa abbastanza caldo anche stasera alle ore mezzanotte 03 domenica 15 maggio 2022 ci sono 22 gradi 22 gradi e dai si sta bene anche stasera ora siamo in alicotri lombardi faccio un giro tanto la notte giovane notte notte giovane per i giovani e le notti giovani amona puttana oggi no oggi oggi non si va a puttana non sono soli per le puttane oggi però ballare no non mi piace ballare quella non giocherà a miliardo oggi sfiderò dopo il 3 a 0 ho vinto io ho vinto io 3 a 0 contro john di culo molto di culo oggi lo batterò 5 a 0 vedremo buona notte a tutti quanti per i vivi per i morti pace l'anima loro vive la figa chiedi la benedica ciao a tutti